La quindiesima puntata del Grande Fratello ha regalato emozioni e tensioni, con le coppie divise tra la casa e il tugurio. Alfonso Signorini ha evidenziato le dinamiche tra Shaila Lorenzo e Giulia Giglio, due coppie che sembrano aver trovato nuova linfa vitale nella separazione. Giulia e Giglio hanno rafforzato il loro amore, mentre Lorenzo ha affrontato una sfida per riabbracciare Shaila, nonostante una penalità economica. La tensione è salita quando i concorrenti hanno dovuto decidere chi potesse riunirsi con il proprio partner. Le scelte sono state sorprendenti. Luca Calvani ha scelto di non far riunire Shaila e Lorenzo, mentre Elena ha optato per farli riunire. Tuttavia, il Grande Fratello ha svelato che era solo una prova, lasciando i concorrenti confusi. Diane Mello è entrata nella casa, abbracciando Elena e ricevendo applausi. Il confronto tra Ilaria e Pamela ha evidenziato tensioni, con Ilaria che si è sentita oppressa dalla presenza di Pamela. Eleonora Cecere ha sostenuto Ilaria, sottolineando come Pamela tendesse a sovrastare gli altri. Ilaria ha considerato di lasciare il gioco, sentendosi a disagio. Il riabbraccio tra Tommaso Franchi e suo padre ha emozionato i concorrenti. Il televoto ha rivelato i preferiti del pubblico, con Lorenzo ed Elena in testa. Mentre Federica ricevono tutti il 60 per piaciuti per essere da Saffano.